Allora, oggi ragazzi andremo a vedere il mio reto dell'ultimo risposto che è arrivato al palco. Allora, oggi ragazzi andremo a vedere il mio reto dell'ultimo risposto che è arrivato al palco. Allora, oggi ragazzi andremo a vedere il mio reto dell'ultimo risposto. Allora, oggi ragazzi andremo a vedere il mio reto dell'ultimo risposto. Allora, oggi ragazzi andremo a vedere il mio reto dell'ultimo risposto. Allora, oggi ragazzi e Allora, oggi ragazzi andremo a vedere il mio reto dell'ultimo risposto. Allora, oggi ragazzi andremo a vedere il mio reto dell'ultimo risposto. Allora, oggi ragazzi andremo a vedere il mio reto dell'ultimo risposto. Allora, oggi ragazzi andremo a vedere l'ultimo risposto. Allora, oggi ragazzi andremo a vedere l'ultimo risposto.